Noto tentato omicidio alle palazzine popolari, spara per uccidere e poi prova a fuggire, arrestato. Era pronto a darsi la fuga l'autore del tentato omicidio messo in atto il 27 ottobre a Noto nelle palazzine popolari di via Gian Tommaso. Le indagini svolte di concerto tra carabinieri e polizia sono state tempestive e hanno permesso di individuare con assoluta certezza l'autore dell'efferato gesto criminale commesso a seguito di una lite per futili motivi con altri condomini di quelle palazzine popolari e di ritrovare l'arma del delitto. Dopo una serie di perquisizioni effettuate nella medesima senata del 27 ottobre, il cerchio ha iniziato a chiudersi intorno al responsabile del tentato omicidio che aveva risposto almeno due colpe di arma da fuoco con l'intento di uccidere, che è stato fermato nella senata del 28 ottobre prima che facesse perdere le proprie tracce. Fermato dopo l'attività di diritto è stato associato nella Casa del Circo Generale Cavadonna di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha concordato con le risultanze investigative.